Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo vlog del canale. Io sono Giuliano e oggi vi racconto subito cosa andremo a fare. Allora, prima di tutto dobbiamo agganciare questo attrezzo per fargli un po' di manutenzione, vedere se è tutto a posto e soprattutto sostituirgli le zappe. Come potete vedere, questo è lo scalpello principale e diciamocelo, questo è il nuovo ovviamente, questo qua è il vecchio. E c'è una bella differenza, vanno sostituiti sicuramente. Sarebbe anche da cambiare il gatto, oltre alle zappe, perché non è possibile che ogni volta che si inizi a registrare loro siano tutti qua, perché ci sono altri che hanno meno coraggio, però ci sono anche altri gatti. Prima, però, è sporco di terra, io quando mollo le zappe non voglio più sporcarmi di terra come ho fatto con rabe, quindi bisogna attaccarlo e pulirlo. Perché sostituisco le zappe di questo dissodatore? Perché mi servirà per dei lavori, non da me perché io sono in minima e non posso utilizzarlo, ma da amici che hanno bisogno di una mano. E soprattutto, era un lavoro da fare, più avanti nel futuro mi servirà, è un ottimo attrezzo, veramente è un gran attrezzo, e mi servirà e quindi è subito pronto al lavoro con tutte le parti di usura nuove. Dovete capire che queste zappe, cioè le zappe che ci sono su, sono durate tanto, tanto, sono durate sette anni almeno di lavoro, a parte negli ultimi due che non è stato utilizzato. Allora, prima di agganciarlo, vado a dare una lubrificata, indubbiamente, alle sfere, perché è molto importante ragazzi, almeno così i ganci si vanno ad agganciare perfettamente. Ok, la giriamo anche, così gli diamo l'olio dappertutto, senza esagerare che già così è veramente tanto ragazzi, è fin troppo esagerato. Ok, anche nella spina, allora questa spina è veramente odiosa, perché per fermarla c'è una vite con dado del 17, però perché è questo? Perché non sono riuscito a trovare un agrimat che abbia un anello grosso abbastanza da chiudere tutto il perno, il pernetto, e quindi per ora c'è una vite, anche se è veramente una rottura. Ok, olio fino a qua, perfetto. Perfetto, bene, adesso portiamo qua il trattore e lo attacchiamo. Diamo una pulita anche alle prese idrauliche, così si agganciano meglio, così col guanto. L'attrezzo è stato fuori per un po' di tempo, è un peccato però, è 4 metri fisso, si fa fatica a passare in certi passaggi, non si trova mai il posto dove metterlo via, ecco l'unica pecca di questo attrezzo è stata quella, un 4 metri fisso. Fin per carità è costato di meno, è costato di meno rispetto a un 4 metri pieghevole ovviamente, però insomma se ne pagano anche le conseguenze, come in tutte le cose. Bene, portiamo qua l'altro bestione, è da tipo novembre che lui riposa. Ok, e insomma adesso deve anche tornare a far qualcosina, magari riusciamo a fargli far qualcosina. Gasolio basso però per un aggancio basso avanza. Qua purtroppo si sporca a star fermo, si impolvera a star fermo, però ragazzi io ho già dato una risciacquata, io sui trattori, sulle macchine li lavo una volta all'anno e non voglio mai esagerare perché ragazzi lavare i mezzi è un bel rischio. E se vi state chiedendo se mai ci sarà un video con quel dissodatore là, che tanti lo chiamano ripuntatore, però ragazzi è sbagliato chiamarlo ripuntatore, quindi mettetevelo in testa, non sbagliate, chiamate le cose con il proprio nome. Quello là non è né un ripper e né un ripuntatore, quello là è un dissodatore, chiamiamolo così che è molto più corretto. Non so se ci saranno lavorazioni per chi se lo chiedesse, se ci saranno ve le porto sicuramente perché ragazzi non è che io sto qua a fare i conti, questo lo porto sul canale o questo no, se ne ho la possibilità che si può fare, che c'è tempo di farlo, io filmo tutto. Allora, partiamo. Sollevatore giù tutto e si cerca di far centro il primo colpo, si cerca. Ok, addrizziamo. Ok, già qua possiamo vedere se siamo a una distanza corretta, è un attrezzo che sta veramente molto all'interno della macchina. Ok, vediamo qua, se va. Siamo anche fin troppo avanti, forse uno diciamo a prenderlo. Andiamo un pochino avanti. Dai, così. Ok, scendiamo. Ok, ragazzi, ci siamo. Ok, dopo li si sistemano. Perfetto, appunto ragazzi a questo servono i comandi esterni. Poi, prese idrauliche, lo mettiamo nel 2. Ancora una pulita, non si sa mai ragazzi. Magari premiamo anche qua sopra. Col guanto sopra bisogna premere questi qua, perché se no ti scoppiano in faccia se c'è pressione. Ok, questo va, questo è un po' durotto. Ok. Perfetto. Perfetto, agganciato. Fuori il terzo punto circa, poi regoliamo la distanza col sollevatore. Ok, per ora abbassiamo tutto l'attrezzo. Ci mettiamo in una posizione più sicura. Tiriamo fuori la spina. Così. E verifichiamo qua come siamo messi. Bisogna alzare un pochino. Ok, così dovremmo andare. L'olio appunto ragazzi serve a questo. E via. Qua si gira già in posizione per mettergli la vite. E bene, qua si abbassa. Penso di avere stabilito il record personale di aggancio di questo bambino. Di solito ci impiegavo molto di più. Eh ma ragazzi, è per far vedere nel video che ci ho impiegato poco. Se no, da solo me la prendo comoda. Allora, andiamo. Perfetto. Ah, guardate che linea che ha. Mamma mia. Eh, mi piace tanto. Più di nuovo. E l'ho già detto. Lì, prima di andare in campo, bisogna ricordarsi di tirar su quei piedi che ci sono lì. Attualmente non lo faccio perché comunque dobbiamo fare per ora dei lavori di manutenzione però ovviamente mi ricorderò di sistemarli perché se si parte in campo con i piedi giù è un disastro. Li piegate, li piegate semplicemente. Ovviamente adesso sono già le 5 di pomeriggio le giornate si stanno allungando dal 21 di dicembre però comunque sono ancora troppo corte alle 6 c'è buio quindi inizierò il lavaggio lo finirò, metto via il trattore e probabilmente ci vediamo domani mattina. Ok, come al solito ci siamo sporcati bene per fortuna che ho tre giubbini uguali identici di ricambio qua vediamo che tutto sia a posto Ragazzi qua vedete che il giondire ha alzato il muso voleva vedere più in alto qua ragazzi il bambino qua dietro pesa tanto pesa veramente tanto in descrizione troverete i dati tecnici non preoccupatevi che i video in cui vi spiego come utilizzarlo con la modalità manuale e il display arriveranno arriveranno subito qua tiro dentro un po' il terzo punto perché non vorrei che toccassi da qualche parte che va a finire che mi aggancio e lì dopo ci sono i problemini perché va bene che ci sono le viti le viti di trancio le viti di sicurezza però insomma meglio non agganciarsi mamma mia era da tanto volevo registrare un video sono rimasto fermo due settimane e per questo mi scuso però dovete anche capire purtroppo che il canale va avanti in base all'andamento dell'azienda e del clima adesso sto cercando di inventarmi qualche altro nuovo format sul canale per poter portare video anche nei momenti brutti e di pioggia allora qua ci parcheggiamo quel rullo là dietro ragazzi serve a regolare la profondità di lavoro ovviamente le zappe sono a sgancio rapido e sono tenute ferme da questa spina elastica adesso andrò a lavare bene qua sopra per non farmi cadere terra in testa però dopo dovrò andare dentro con una punta da 3 una punta da trapano da 3 per il muro in modo tale da buttare fuori la terra dalla spina elastica questa spina elastica va battuta fuori e si sfila la zappa in un attimo diciamo così bene fa veramente freddo il tubo è rigido perché appunto c'è il ghiaccio e andiamo ecco l'importante sarebbe non buttare non buttare acqua sul trattore sarebbe anche meglio di no adesso noi passiamo ancora per ancora e puliamo tutto bisogna essere dei cecchini qua per beccare la terra che è una meraviglia sembrava tutto pulito dalla dietro ma e invece c'è il pinimondo purtroppo in centro non riesco ad arrivarci anche da questa parte ci dovremo accontentare e via dall'altra parte risciacquata finale una bella doccia leggera e massaggiante no in verità ragazzi stringo il getto solo per non lavarmi e poter andare più vicino tipo lì qua è ecco guarda è bell'idea bell'idea Giuliano complimenti sei proprio in gamba oh ma che bello ci impiega anche dieci anni per fare un pezzettino però almeno non ti lavi buon doccia finale e si va a seminare ah no non ce l'abbiamo fatta quest'anno vabbè semineremo un bel po' di mais a 13 euro al quintale lì si che si guadagna ti stufi di prendere soldi scusate per questi monologhi è solo per intrattenere così magari scrivete anche la vostra nei commenti in base a quello che dico là purtroppo ho schizzato un po' sul vetro e al massimo se si macchia lo laverò a mano tanto ormai sono abituato a pulire tutto tiriamo su è rimasto ancora un po' di terra nei punti centrali vabbè insomma molto meglio di prima ok adesso dato che ormai è tardi oliamo tutte le spine elastiche con l'olio sbloccante dopo lo mettiamo via e inizio a sostituire le zappe domani penso domani mattina domani pomeriggio ecco abbiamo quasi finito e ultima adesso qua in questa spina elastica che ha un foro centrale andrò dentro con un trapano a buttare fuori la terra con una punta più piccola e dopo sarà più facile cacciarla fuori perlomeno si spera eccoci qua ho messo una foto su instagram uno scatto rubato letteralmente e siete letteralmente impazziti dicono oddio cosa vai a fare finalmente basta minima mamma mia ragazzi non lo so va bene che siete patiti dell'eratro a dir poco però calma io adesso devo andare a sistemare cose per voi quindi video computer che si è rotto quello nuovo già un'altra volta si è rotto l'hard disk il secondo hard disk che mi parte che rompo qui potevo essere più intelligente fare la manovra in un unico punto ma preferisco mettermi dritto perché il bambino ne da 4 metri qua dietro non è divertente da portare in giro soprattutto dal cancello quello di entrata non ci passa ragazzi non ci passa il che mi costringe a passare da un'altra uscita ma se andrò a lavorare da qualcuno e riuscirò a fare un video vi farò vedere adesso faccio un bel taglio e noi ci vediamo con la sostituzione delle zappe niente ragazzi qua giorno 2 ha ricominciato a piovere siamo al 20 di gennaio praticamente 18 per l'esattezza e si stava asciugando eravamo pronti a iniziare ancora con le lavorazioni e seminare ma qua spero non venga compromessa anche la stagione primaverile perché sarebbe un grosso problema va bene intanto andiamo avanti allora ho voluto portarvi il video a tutti i costi di conseguenza lavoriamo al chiuso mi dispiace ci sarà scarsa luminosità tutto quello che volete cercherò di fare il possibile comunque allora adesso il lavoro che dobbiamo fare come vi dicevo sono è la pulizia di queste spine elastiche la pulizia interna di queste spine come la faccio? trapano avvitatore a batteria leggero piccolo per con una punta da 5 l'interno è 6 per pulire appunto la terra all'interno della spine elastica spero si veda tutto bene iniziamo al massimo aggiungerò delle clip non lo so mi inventerò qualcosa inseriamo la punta da qua ed è non dico duro come un muro la punta è da muro perché comunque deve deve forare della terra e poi se becca del metallo non è un grosso problema ok una bella pulitina così ok andiamo avanti ovviamente bisogna uscire dall'altra parte e qua me le faccio tutte adesso non so se nel video non so se nel video ragazzi riuscirò a finire tutte le zappe e farvi vedere l'attrezzo completamente risistemato però comunque una zappa completa ve la faccio vedere sicuramente intanto qua andiamo avanti ecco ragazzi qua potete capire la mia terra si può utilizzare anche per fare le tegole a momenti è una roba durissima vabbè che qua è secca chissà qua cosa c'è dentro anni e anni di sporco perché comunque dovete capire che queste zappe nonostante non siano al carburo di tungsteno o roba esagerata sono durate veramente tanto quindi sicuramente è un buon materiale se vi serve anche voi un trapanino del genere che veramente ragazzi è comodissimo e anche se 12 volte basta ha una potenza veramente esagerata c'è ovviamente la frizione per le viti con il selettore su viti poi c'è il disinserimento della frizione quindi diciamo un motore diretto per la punta e poi c'è addirittura il battente c'è il selettore 1 e 2 1 massima coppia meno velocità 2 massima velocità meno coppia se lo volete se volete vedere o qualcosa di simile il link è in descrizione ovviamente non è un video sponsorizzato quindi non vi dico neanche la marca allora qua andiamo avanti in caso non si vedesse nulla perché lo scopro solo una volta in montaggio vi spiego a voce quello che vado a fare adesso sto spazzolando attorno alla spine elastica per veder bene dove battere si è mosso questo è uno non viene via quella non c'è molta roba pulita dirai hai la spina che non 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 e e e e e e e e ok ragazzi stavo giusto per chiudere il portone poi mi son detto hey giuliano devi registrare alla fine del video sennò chi li saluta quelli la no sto scherzando ragazzi allora andiamo a vedere cosa abbiamo fatto anche se c'è poca luce potete vedere che alla fine ho deciso di cambiare solo le zappe centrali quelle che svolgono il lavoro maggiore potremmo dire perché questo diciamo che nelle laterali ho guardato si verrà pochissimo non si verrà niente ho guardato e come lunghezza rispetto alle originali si saranno accorciate mezzo centimetro l'usura maggiore appunto l'hanno avuta in questo senso però considerando che non devo fare molta terra sempre che il tempo me lo permetta il tempo sia materiale che proprio meteorologico me lo permetta non devo fare tanta terra comunque vanno più che bene quindi non sono stato qua a sostituirle o a cambiarle di posizione anche perché la sostituzione non è affatto semplice bisogna mollare tutta questa piastra è un bel una bella rottura potremmo dire allora come lunghezza siamo a posto quindi la terra lavoriamo tutta certo manca un po di coltello ma non è un enorme problema il grosso problema erano quelle centrali che veramente non c'era più niente niente ragazzi detto questo direi che posso chiudere il portone farlo riposare ancora per qualche giorno e poi ritornarci a bordo per continuare i nostri lavori allora oggi fa il sole voi in questo video avete visto tempo normale nuvoloso poi la pioggia e poi oggi il sole avete visto tutte tutte le situazioni climatiche insomma adesso io in minima lavorazione questo attrezzo non posso usarlo non potrei usarlo neanche intero che neanche chiedendo permessi perché viene proprio considerato un attrezzo che rivolta lo strato del terreno anche se a mio parere no però vabbè non voglio fare niente non voglio andare contro i mulini a vento perché è una cosa inutile devo fare appunto qualche lavoro per qualche amico tempo permettendo terra permettendo si andrà a fare questi lavori e ovviamente se ci sarà l'occasione e farò in tempo e tutto come al solito io porterò i video anche di questa lavorazione anzi spero di portarlo perché è una lavorazione veramente interessante che mette a dura prova questo 9.006 cilindri da 285 cavalli detto questo qua chiudiamo lo salutiamo adesso è anche sono anche le 5 di pomeriggio e niente ragazzi io davanti a questo portone verde vi mando un caro saluto seguitemi su instagram e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e ci vediamo nel prossimo trattor vlog